focolaio di covid al grande fratello vip 7 quella che era un'ipotesi fino a poche ore fa si è trasformata in una solida certezza il programma di canale 5 con un comunicato ufficiale diramato nel tardo pomeriggio di sabato 12 novembre 2022 ha confermato che almeno 4 vip sono risultati positivi al tavolo trova così spiegazione l'uscita dal gioco di patrizia rossetti avvenuta sempre nella mattinata di sabato dopodiché dal loft di cine città sono spariti lungo la giornata luca onestini attilio romita e charlie gnocchi i telespettatori affezionati alla trasmissione hanno fatto uno più uno anche perché dopo che la rossetti ha abbandonato la casa tutti i vipponi sono stati chiamati in un luogo appartato per effettuare il tampone alla fine ecco la nota ufficiale diffusa dal programma condotto da alfonso signorini sì al gf vip c'è il covid questo il comunicato a seguito di controlli medici patrizia rossetti è risultata positiva al covid si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato al momento almeno tre casi di positività luca onestini charlie gnocchi attilio romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la casa in attesa di poter rientrare appena sarà possibile dal gf vip hanno inoltre aggiunto che continueranno ad essere effettuati i controlli e non si smetterà di monitorare l'evoluzione della situazione legata alla catena di contagi inoltre è stato reso noto che il televoto in atto che vedeva tra i nominati charlie gnocchi wilma goic george ciupilan e patrizia rossetti è stato annullato infine la trasmissione ha invitato i vip poni a denunciare rapidamente l'eventuale manifestazione di sintomi riconducibili al corso